Non c'è nulla di definitivo né alcuna volontà della direzione aziendale di penalizzare questa o quella struttura. È la posizione della ASL Lanciano Vasto Chieti in merito al piano di riordino dei posti letto. Il documento è diffuso in questi giorni. In termini di proposta, dice il direttore generale della ASL Francesco Zavattaro, altro non è che l'applicazione dei contenuti del decreto dell'ex subcomissario alla sanità Giovanna Baraldi del 2010 relativo alla razionalizzazione della rete di assistenza ospedaliera. La nostra azienda, che non si era ancora adeguata ai parametri indicati, è stata sollecitata a rimodulare la dotazione di posti letto con ben due note pervenute qualche settimana fa a firma dei competenti organi regionali, nelle quali viene fissato in 90 giorni il termine per applicare il decreto. Per adempiere a tale obbligo abbiamo elaborato una proposta che in questi giorni al vaglio di sindacati, capi dipartimento, consiglio dei sanitari e comitato ristretto dei sindaci. Questi, in tempi brevissimi, dovranno farci pervenire un parere riferito essenzialmente alla ricollocazione delle attività sulla quale possiamo confrontarci. Sui numeri complessivi, infatti, non c'è flessibilità, nel senso che il totale dei posti letto è vincolato alla programmazione regionale e non potrà mutare.